Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo nuovamente qua perché è tornato il format del recap settimanale delle news di calciomercato oggi diversa dalla prima, ho cercato di migliorare, ho ascoltato i vostri consigli e spero che possiate apprezzare questi cambiamenti che ci sono stati e quindi fatemelo sapere nei commenti poi appena li vedrete quindi mi raccomando prima di partire lasciate mi piace al video per supportare al massimo questo format e il canale iscrivetevi, attivate la campanellina per non perdervi tutti i prossimi video e poi vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutti gli altri social Instagram, TikTok e vi aspetto anche lì quindi ragazzi senza perderci in chiacchiere andiamo a vedere tutte le trattative vi ricordo che questo format è legato principalmente a quello che è la serie A quindi per l'estero parliamo solo delle trattative più importanti, noi guardiamo più il calciomercato italiano e partiamo direi dal Milan, il Milan che è forse una delle più attive al momento noi ovviamente ragazzi parliamo come ho già detto per il primo episodio principalmente delle big ok? perché le piccole attualmente sono poco attive sul mercato in entrata soprattutto sono più attive sul mercato in uscita ma poi lo vedremo allora come avete visto c'è già stato un cambiamento perché sono arrivate le slide per ogni squadra ok? spero che vi possano piacere, sono molto semplici, nulla di particolare però ecco l'idea era farvi capire subito i nomi che tratta ogni squadra quindi passiamo dai possibili acquisti del Milan alle possibili cessioni come vedete da sinistra a destra sarà così per ogni squadra appunto partiamo dai rossoneri in questo format vi ricordo che vi dico le trattative e soprattutto vi dico il mio punto di vista cioè secondo me quanto potrebbe essere utile quel giocatore o meno e secondo me, che non sono un esperto vi ricordo, quanto realmente potrebbe andare in porto la trattativa allora dicevamo Milan, possibili acquisti, partiamo subito abbiamo tanti nomi per il Milan, come vedete Milinkovic, Fratesi, Turam, tanti quindi quelli che si sono fatti di più nelle ultime ore soprattutto dopo la cessione di Tonali perché è possibile cessione ma ormai, cioè perché non è ufficiale quello di Tonali ma comunque ormai è certa il Newcastle il Milan ha totalizzato un'importante entrata che poi ok c'è anche una percentuale per il Brescia ma è comunque un'importante entrata che può essere investita sul mercato io da milanista lo spero, spero che questi 80 milioni, 70, quelli che saranno verranno totalmente investiti sul mercato anche se difficilmente secondo me lo sarà su tutti mi piacerebbe vedere Milinkovic Fratesi non mi fa molto impazzire come giocatore secondo me non vale 40 milioni e non è adatto al gioco del Milan 4-2-3-1 non va bene per il gioco del Milan quindi non so quanto possa essere utile alla manovra del Milan a meno che non si passi a un 4-3-3 ok? però Milinkovic è un nome che più mi piacerebbe vedere anche perché oggi con 30 milioni te lo porti a casa e è un signor giocatore quindi questa è la mia preferenza tra i due poi se arriviamo tutti e due bene anche se fratelli secondo me 40 milioni non ce li spenderei mai Turam Turam è un giocatore che ha rifiutato il PSG adesso si è inserita anche l'Inter ma lo vedremo e c'è anche l'Ipsia su Turam che non ha mai mollato la presa però nelle prossime ore si capirà di più un giocatore che mi piacerebbe vedere Guler non lo conosco in realtà il ragazzo del Fenerbahce si parla di circa 17 milioni e mezzo più una parte che vorrebbe ci sarebbe da pagare praticamente la commissione al padre agente quindi almeno su 20 milioni e poi Reinders non lo so non lo conosco Juhlman non mi dispiacerebbe vi dico la verità Pulisic non lo so Kamada si capirà e Lukaku in realtà era un nome accostato al Milan ma che non sembrerebbe gradire la destinazione in realtà al giocatore quindi secondo me non si farà su tutti questi i giocatori che potrebbero farsi sono forse Turam Frattesi Milinkovic i più realistici insieme a Guler perché anche Juhlman c'è la Fiorentina sul giocatore secondo me di questi nomi si Kamada penso che arriverà è forse uno tra Milinkovic e Frattesi più Frattesi ma anche se vedo il giocatore secondo me più direzionato verso l'Inter anche perché Frattesi ha dichiarato che ha già scelto la sua squadra ma non si sa quale ma lui ha detto so già la mia squadra dove voglio andare il mio agente so che farà di tutto per mandarmi lì ma mi sento che ci sono altre squadre interessate a me queste sono state le sue parole Frattesi secondo me sceglierà l'Inter quindi non lo so quanto la vedo possibile come trattativa per le preferenze del giocatore poi il Milan al momento ha i soldi con le cessioni tonali che l'Inter non ha però ci arriveremo ci arriveremo quindi questo è il discorso Milan per quanto riguarda gli acquisti possibili cessioni abbiamo tonali che già sappiamo Gabbia che è interessato alla Salernitara e poi Teo Teo si è fiumdato il Newcastle è nuovamente un obiettivo degli inglesi è un giocatore del Milan l'Atletico Madrid si è parlato anche di Manchester United insomma capiremo però Teo il Milan ha detto che vuole almeno 100 milioni non bastano gli 80 di tonali ma secondo me Teo non va venduto cioè ti sei già privato di tonali che non avevi in realtà bisogno di cedere però vabbè su tonali è già uscito il video dove dico tutta la mia idea se non l'avete visto vi invito a vederlo e lì vi spiego tutto quanto però ecco quindi non perdiamo tempo con tonali però io ecco non vorrei più vedere le cessioni da parte del Milan importanti poi Gabbia Maldini Brescianini che parlano con la Salernitana è un altro discorso anche se Gabbia come quinto io lo terrei in realtà comunque a livello di pro e contro ecco tonali saranno assenza importante Teo speriamo non vada appunto perché è importantissimo per i possibili acquisti come ho detto difficilmente secondo me tutti ovviamente andranno in porto ma quello è scontato mi piacerebbe vedere Milinkovic Turam e Yulmand nel caso togliendo che Kamada già è teoricamente preso fratelli secondo me non è adatto a noi passiamo all'altra parte di Milano l'Inter possibili acquisti possibili eccessioni anche qua abbiamo come nomi di acquisto Milinkovic che piace anche Nero Azzurri lo sappiamo Bissec che sembra ormai tutto fatto a Spiriqueta l'Inter sta lavorando per la Spiriqueta Turam appunto come dicevamo Nero Azzurri si sono inseriti e Kulibali mentre sfuma perché va in Arabia per quanto riguarda le eccessioni Dzeko che è ufficiale al Fenerbahce Brozovic che il Barcellona è interessato al Croato la Nasda anche l'Inter aspetta l'ultimo rilancio della Nasda si vale una cifra attorno ai 20-25 milioni si capirà nelle prossime ore anche perché l'Inter vorrebbe in questo modo cedendo a Brozovic avere i soldi per andare su Frattesi che io in realtà qua non ho messo scusatemi però c'è Frattesi come obiettivo dell'Inter sappiamo benissimo e quindi vorrebbe finanziare la trattativa con il Sassuolo per Frattesi attraverso probabilmente l'accessione di Brozovic Onana invece i suoi agenti sono a Manchester per capire cosa si può fare praticamente si parla di una possibile offerta attorno ai 40-50 milioni da parte dell'United e poi Gosens ha un accordo con l'Union Berlino tra il giocatore e la squadra ma manca l'accordo tra la squadra tedesca e l'Inter che chiede circa 15 milioni mentre l'Union Berlino non sembra intenzionato ad arrivare a quelle cifre quindi questi sono i nomi attualmente che girano attorno all'Inter ripeto con l'aggiunta di Frattesi che qua scusatemi davvero per l'errore mi è completamente sfuggito però non mi sono ricordato di dirvelo fortunatamente e secondo me i nomi che potrebbero essere utili all'Inter sono ovviamente Milinkovic quello è un giocatore che è utile a tutti però per il gioco dell'Inter ecco Milinkovic non perché io sia milanista ma vedo più un Milinkovic adatto al Milan rispetto all'Inter ok all'Inter gli vedo più uno come Frattesi in realtà cioè preferirei così da milanista però ecco uscendo da questo più in modo obiettivo secondo me è così Bissex secondo me è un buon difensore che non farà il titolare ovviamente Aspiricuita potrebbe dare una mano Turam anche qui potrebbe dare una mano sia almeno anche all'Inter quindi sono nomi che all'Inter farebbero tutti bene secondo me mentre per quanto riguarda le cessioni Dzeko al Fenerbahce ormai ufficiale come abbiamo detto è un peccato che è che è grande ma era utile per la manovra dell'Inter l'abbiamo visto più volte poi io l'adoro Brozovic è una pedina importante per il gioco dell'Inter secondo me anche se inizia ad avere magari una certa età non deve assolutamente partire io non lo farei mai partire Gosens anche qua io non so se lo farei partire onestamente è ok che gioca di Marco però è sempre un'alternativa importante potrebbe fare il titolare in qualsiasi partita Onana invece io come ho sempre detto non mi piace troppo come portiere secondo me è abbastanza sopravvalutato per una buona offerta cioè 40-50 milioni per Onana io lo farei partire subito però attenzione perché qua dopo ci arriveremo lo farei partire subito se l'Inter fosse andato a prendere un portiere come Vicario ma in realtà Vicario ragazzi è della Tottenham quindi anche qua c'è da considerare questo perché se fai partire Onana e non hai un sostituto ok a questo punto me lo tengo Juventus Juventus anche qua insomma sta sta succedendo un po' un po' di novità ci sono praticamente ovviamente c'è ufficiale l'arrivo di Milik Juventus che nelle ultime ore è molto interessata a UEA c'è un principio d'accordo circa 12 milioni più un contratto di 5 anni al giocatore per il francese però attenzione perché UEA non esclude non esclude Castagne che c'è praticamente un'offerta scusatemi una richiesta da parte dell'Eister di circa 15 milioni e attenzione UEA non esclude Castagne secondo me sia Milik che UEA che Castagne potrebbero fare bene alla Juve e sono trattative ok Milik già è andata UEA c'è il principio d'accordo e anche Castagne potrebbe andare a buon fine poi la Juventus in caso di addio di Rabiot che come sappiamo non si sa se rinoverà il suo contratto potrebbe inserirsi per Milinkovic e piace anche Partey giocatore dell'Arsenal praticamente ci vogliono circa 20 milioni non so se andrà a spendere tutti quei soldi per lui onestamente poi c'è il nome di Frattesi la Juve non lo molla Odruzzola e Zaniolo che secondo me non lo so non lo so Zaniolo ogni estate è così capiremo capiremo però potrebbe dare una mano alla Juve sicuramente Odruzzola secondo me se dovesse andare via Quadrado è un ottimo nome infatti per quanto riguarda le cessioni abbiamo Rabiot come dicevamo Quadrado ragazzi anche qua errore ero troppo concentrato sui nomi da scrivere scusatemi però c'è una parentesi di troppo perché Quadrado piace al Fenerbace e al Seviglia capiremo se partirà già in questa sessione di mercato e poi abbiamo Zaccaria i pellegrini che potrebbero essere inseriti con un'eventuale trattativa per Milinkovic che come sappiamo mi piace alla Juve Arthur invece non rientra più nei piani bianconeri e si cercherà una nuova destinazione che al momento non si sa Zaccaria che piace anche al West Ham e poi abbiamo Chiesa Chiesa primo nome nella lista delle possibili eccessioni ma che ho aspettato dico per ultimo perché Chiesa è su di lui più un battle Newcastle ci sono già offerte anche da altre squadre inglesi da 60 milioni che però non convincono nella Juve nel giocatore il Newcastle è una squadra attualmente molto attiva sul mercato ha già preso tonali piacciono anche Teo e Chiesa dalla Serie A e anche qua bisognerebbe capire un'eventuale offerta da parte del Newcastle per la Juve e per Chiesa Chiesa che piace anche al Liverpool gradirebbe la destinazione da quello che si dice il giocatore della Juve Klopp è interessato al giocatore e anche qua insomma c'è da capire tanto per quanto riguarda il mio punto di vista qua io penso come ho detto Milik uguale a Castagna potrebbero fare bene alla Juve Milinkovic potrebbe fare benissimo ma non so se andrebbe a giocare alla Conference questa è la cosa che mi frena a differenza magari di Partey Zagnolo andrebbe a giocare a Drozza la quale Frattesi secondo me non andrà alla Juve lo vedo più un giocatore da Inter come ho detto e qua per quanto riguarda le cessioni io a Rabiot non lo farei partire però anche lui magari non vuole giocare alla Conference quindi ci può stare Quadrado ci può stare farò partire ormai grande anche se io non me ne priverei perché secondo me è un ottimo terzino Pellegrini e Zaccaria ci sta dalle vie come Arthur e Chiesa io non lascerei mai partire però anche qua è un giocatore è vero che arriva da un'annata tutto quello che è non la migliore annata però è un giocatore che è da tenere forte però anche lui ecco magari non vuole giocare alla Conference e c'è da considerare tutto questo ragazzi purtroppo è così arriviamo alla Roma Giallo Rossi che hanno ufficializzato Smalling Dica Cristante e gli è stato offerto Van de Beek che non è la priorità però la Roma sta valutando il giocatore Scamacca ha detto sì alla Roma quindi si sta cercando di trovare un accordo con il West Ham e c'è il nome di Baldanzi in queste ultime ore che secondo me potrebbe essere un ottimo colpo per la Roma un giocatore che è interessante un giovane che lo vedo lo vedo lì sulla tre quarti stile di bala così secondo me la Roma potrebbe potrebbe fare bene insomma potrebbe fare un salto di qualità non troppo elevato perché la Roma magari gioca comunque l'Europa League quindi secondo me Baldanzi potrebbe essere un ottimo colpo e tutti questi secondo me la Roma se li dovesse prendere Van de Beek Scamacca e Baldanzi non so potrebbero andare in realtà tutti in porto perché non parliamo di cifre altissime magari alcuni in prestito alcuni non rinnovato alcuni a parametro zero come indica come a UAR che abbiamo già visto la scorsa settimana e quindi potrebbero andare tutti in porto e secondo me sono tutti ottimi possibili acquisti mentre per quanto riguarda le cessioni questa settimana abbiamo visto quella ufficiale di Tagliere Ricci all'Ajax e poi si parla di Carles Perez al Salta Vigo attorno ai 6 milioni e Clivert al Barnum per circa 12 milioni bonus compresi sono cessioni che secondo me ti fanno incassare e che tanto non servono questi giocatori alla Roma non giocano più e ci fai comunque più di 20 milioni circa 20-30 che fanno comodo e che puoi andare a investire sul mercato per esempio su un nome come Baldanzi quindi secondo me la Roma con questi nomi sotto questo punto di vista sta facendo un buon mercato se dovesse concodersi di tutto quello che abbiamo detto finora arriviamo al Napoli come ultima squadra di cui andiamo a fare queste slide perché poi arriviamo a un concetto più generale di più trattative della Serie A e abbiamo praticamente partiamo dalle cessioni questa volta perché c'è Kim che è sempre più vicino al Bayern e di conseguenza se dovesse andare via Kim il Napoli pensa a Danso Schultz del Torino e Itakura spunto anche questo nome il favorito il preferito di García diciamo sembrerebbe Danso del Lens e poi piace Gabri Vega del Seltavigo qua c'è una richiesta di circa 40 milioni da parte del Seltavigo mentre De Laurenti se è pronto comunque già offrire 30-35 milioni però si vedrà ecco non so secondo me se posso andare realmente in porto a questa trattativa non sono abituato a vedere De Laurenti spendere tutti questi soldi però si vedrà insomma e poi onestamente non conosco il giocatore quindi non so se potrebbe essere un ottimo acquisto per il Napoli io tra tutti questi Schultz del Torino lo punterei e Kim ha una cifra tipo 60 milioni non lascerei partire come lascerei partire Lozano che piace in Arabia Saudita e quindi insomma capiremo cosa cosa succederà nelle prossime ore attorno al mondo Napoli adesso ripeto conclude il Napoli questo slide di riassunto per le squadre più attive al momento sul mercato che sono le big per quanto riguarda la Serie A e arriviamo ad altro cioè trattative importanti delle altre squadre per esempio Gabbiadini che piace al Cagliari è molto vicino Ranieri l'ho chiesto Vicario come abbiamo detto è praticamente un nuovo giocatore del Tottenham per circa 20 milioni e onestamente secondo me è una grande perdita sia per l'Empoli che per il calcio italiano perché ok che parliamo di un ragazzo di 26 anni però c'è un portiere che ha dimostrato che potrebbe giocare tranquillamente in una squadra tra le prime almeno 6-7 non dico magari Juve, Milan e Inter non hanno bisogno di un portiere al momento forse neanche altre però ecco per esempio farvi capire la Fiorentina che cerca eventualmente Luis Maximiano vatti a prendere Vicario no? poi ovviamente dipende dagli obiettivi che hanno comunque ci arriviamo Amrabat in uscita dalla Fiorentina che piace a Barcellona Atletico Madrid Berardi che continua a trattare con la Lazio già lo abbiamo detto da tempo Audero piace la Lazio ecco anche qua la Lazio vatti a prendere Vicario è solo che anche la Lazio a provvedere magari Audero come più secondo portiere quindi ripeto anche forse gli obiettivi che ha la squadra quello è vero però Vicario secondo me dovrà rimanere in Italia Lazio che su Bergman Musa del Sassuolo cioè Musa piace al Sassuolo in caso di Aldide Frattesi che ormai sembra certo Lucca Udinese c'è un principio di accordo tra l'Udinese e il giocatore per il ritorno in Italia di Lucca dopo l'esperienza all'Ajax Luis Maxignano come vi ho detto prima Fiorentina che è anche su Ian del Verona in più l'Atalanta ha fatto una prima offerta di circa 7 milioni allo Spezia per Olma secondo me potrebbe essere un buon colpo questo e poi l'Atalanta che punta anche El Bilal Touré non lo conosco però potrebbe puntarlo in caso di cessione di uno degli attaccanti ok invece Torino ha chiuso per Bellanova 7 milioni più 2 di bonus e piace Becao in caso di addio di Schurz che come abbiamo detto piace al Napoli e poi come dicevo prima per quanto riguarda il Milan oltre a Gabbia la serenità ha interessato anche Maldini e Brescianini queste quindi sono le trattative più importanti di questa settimana che stiamo vedendo in questo neanche inizio in realtà perché non è iniziato il calcio mercato in questo anticipo di calcio mercato che però già ha visto alcune ufficialità tipo giocatori svincolati oppure tornare il Newcastle che ormai è praticamente tutto fatto e quindi niente ragazzi io queste sono state le mie le mie idee i miei pensieri sempre su queste trattative che cerco di portarvi a livello personale vi dico il mio punto di vista questo è il recap settimanale che spero vi sia piaciuto anche con queste iniziative a livello di slide spero insomma che possiate apprezzarlo fatemelo sapere nei commenti io ripeto spero che il video vi sia piaciuto vi ringrazio per tutto e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi